Ciao ragazzi, oggi è il valore dell'indifferenza. Sentiamo cosa ci dice. L'indifferenza è il valore formato dal distacco e dall'accoglienza fusi insieme, a significare che il paradosso del distacco accogliente o dell'accoglienza distaccata è sempre allerta quando si cerca la verità. Essere indifferenti non è essere neutri, ma è contrario, accogliere così tanto la diversità da non poter distinguere più una parte dall'altra. Suono. Accolgo le parti osservando nell'insieme. Luce. Le gocce del mare sono tutt'uno. Colore. Trasmuto la differenza fondendo i contorni delle forme accolte. Vibrazione. Tutto è indistinto nella pienezza dell'intero. Azione. Osservo con lo sguardo attento il movimento integrato. Ecco il simbolo dell'indifferenza. Vedete, è un simbolo complesso. Poiché vi è il cerchio blu dell'amore, poi vi è ancora la spirale dell'ideale, dentro al centro l'accoglienza, quindi la stella arancione della conoscenza con dentro ancora una stella e poi altre due stelle ai lati che però hanno l'ordine, quel tempietto violetto dell'ordine che le accoglie. Dunque, è come dire che questo essere indifferenti significa essere, avere ritmo dentro, quindi essere ordinati dentro e quell'ordine possa cogliere una unità di insieme che, appunto, ci rende indifferenti. Cioè, non abbiamo bisogno di differenziare poiché cogliamo il tutt'uno. Eh, sì. Grande cosa, l'indifferenza. Ma non essere indifferenti perché ce ne frega. No, essere indifferenti poiché si coglie l'insieme, il tutto. Quindi l'indifferenza conduce all'inclusività. Sì, sì, sì.